Santa Rosa 2019 direttamente a casa tua Tele Lazio Nord, Corriere di Viterbo, Viterbo News 24, New Tuscia, La Fune, Eventi della Tuscia e Diretta Sport per la prima volta insieme, per te Tutta Santa Rosa in diretta, il 25 agosto ore 21, mini macchina del quartiere Santa Barbara, miracolo di fede Il 31 agosto alle 21, la mini macchina del quartiere Pilastro